Oh signor che pesantezza Danidan come sei pesante signorino mio Tanto laghi non la puoi guardare la stream la devi guardare in non so in 4 pixel La guardo sul telefono brutta merda va chiudo il pc e vado qui sul telefono Sì vabbè adesso cavate due i coglioni Danidan vai via dal cazzo Danidan Danidan te la invio qua vai Aspetta te la tutta tua Buona Oh mi devo mutare solo live Mannaggia Danidan Ok Buono Eccolo Eccolo Adesso entrano 3 diamanti Minimo minimo Platino 3 va bene ci sta 1 In difesa cosa prendi In difesa cosa prendi In difesa O Rook o Mira basta che mi dite voi Se tu prendi Rook io do prendere Jaeger E Pede non so che cazzo prende Hanno messo server delicato no? Non puoi prendere te Mira ormai Se no lo prendo io Mira Non va schifo Non capace Se volete prendo io Mira Poi vediamo dai momenti eh Se mi prendi Mira mi fa un favore Prendo io Danidan Che sei drogato? Ah sì è lui allora Dai il Romano è andato a rubare il rame Non c'è stasera Nooo Aspettando metterò delle musiche Da solo d'attesa Ma in che mappa si gioca? E' ce l'è E' Oregon Oh c'è the one in live Dov'è? Dov'è che la metto sta roba? Ma io perché sto sulla pagina dei comuni mortali? Io ho la Eccoci Lo sapevo già tranquilla Qual è l'ecoristender e i cinesi? Quella roba lì I cinesi stanno infettando tutto il mondo Sono comunque ormai purtroppo caldo Sì 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 è vero è vero Ormai è così Le cose beve Ti giri di progo in cinesi No no ti giri trovi dark Voi conoscete preservatevi dux Io conosco il muchazzo Raga ma avete visto dvx cos'è? RATIO 1.6 Ma magari è scarso Sì 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 Esatto per favore mettiamo di nuovo le musiche da scensore La musica da scensore è meglio Mutatelo per favore Spero per voi che l'abbiate mutato Uè se non venisse un tacchino Dì ho sbagliato Mi sto tradendo Io sto scorreggendo Lo dice così Lui lo dice così Ho la cacca Non ci posso fare niente Non ci posso fare niente cazzi Aurelio Sciacca Va bene Adesso arriverà mi auguro Ma la musica da scensore è finita Eh ci manca Oh ecco 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 a scegliere il rapporto con la foto ah raga so ah 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 sto scegliando problemi ah 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 grazie report grazie yeah siamo in quattro non saremmo mica troppi madonna no questa chi è quella della wii davvero no questa chi è quella della wii davvero wii for the wii me la ricordo troppo bene degli wii i personaggi è vero è vero è vero quando creava tipo quando creavi i personaggi c'era quella roba quella canzoncena lì mi accetta sempre ecco che dacson l'ascolta prima di entrare anche questa adesso voglio capire chi è aurelio fat chack e noi mettiamo la musica quella di pentex BOT E LNB, dov'è lNB? Gittolo Leso...dani ha detto che sei scarso Mi dispiace Dani ma non ti ha cagato pare Ti passa i pezzi seri, attenzione Tutto è in merda di camera Mi sembra il dax Sì Parito, parito No è che oggi su sui vari gruppi l'ho tipo sentita 58 volte quella battuta le Ok No dai non ti metto moderatore no Cacchio cani a dirmi che non arriva tra l'altro Allora ha detto che arrivava alle 21 e 10 21 e un quarto adesso l'aspettiamo No allora portavo fuori dire Adesso mi chiudono al canale per contenuti non appropriati sta a vedere Allora... 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 Adesso la partita inizierà quando arriva quell'altro uomo sulla terra Pura? Sì, sono un figo lasciami stare Scusatelo, sono un po' obeso e non riesci a entrare nei serviti. Ma come ti permette di queste cose a chiedere le sigarette? Vattene un bovino, trucato. Ma che vuoi? Ma vattene un bovino. Ma vattene un bovino. Ma come ti permetti? Quando arriva? Sì, tranquilli, dai. Mi stanno facendo perdere spettatori, non va bene qua. Ah, secondo me sono dei tanti, Ozzo. Troppi, troppi, troppi. Dopo mi sta per esplodere la live perché ce ne sono troppi. Cioè, quando sfiori 3 milioni di spettatori dopo. Adesso mi bloccano il canale per copyright, sta a vedere. No, siamo a polizia. Ah, non le poste italiane. No, siamo a polizia. No, siamo a polizia. Non sono montate direi... Questa fa? E quindi se si sente cosa succede, cosa deve fare? Ma che è che il monaco che basta la porta e che chiude urlando? Chi è che entra? Buonasera! Stiamo a lavorare con mio padre, Antonio. Saluto a noi. Oggi sono a lei. Dopo vado, esco. Esco con gli amici. Esco con gli amici, vado lì per... Sì. Ci siamo! Andonio. Saluto, Andonio. No, io non scrivo GLHF, mi fa schifo. Ciao da bitch! Doodle. Eh, vai, startiamo da kitchen, dai. Kitchen? Ok. Sì. Rappo vogliono la telecamera fuori. Zitta, bastarda. L'hai visto dove l'avevo messa? Sul pilastro? Io so dove metta la telecamera, non ti preoccupare. Lui è... Lui è nato imparato. Sono la main valkyrie del main team, zio, vai tra. Lui è nato imparato, lui. Esatto. Io non sono nata lesbica. Dovete sapere... Dovete sapere che mentre Rapport usciva dalla figa, lui già parlava alla commedia. Io già mettevo le camere. Vabbè, allora... Lui già metteva le telecamere. Aspettate che faccio il buco in mezzo. Io già giocavo. Sono nato con il mantone in mano un mouse. Ci sono le corazze. Le botto le chiacchie le fa? Schiavo. Vado io, vado io. Ah, bene, se vuole faccio io. Distruggete sempre i droni chiamati droni. Mi raccomando. Il drone è fatto. Ok, gli altri due sono ancora me. Niente glitch, mi raccomando. Sì, sì, tranquilli. Rimangono dieci secondi. Non ce l'ha fatta mettere un rinforzo qua? Dovete sapere? Qua. Qua dove? Qua ho messo il ping. Ok, sì, sì, arrivo a scena. Posiziono il cappetto trappola. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Sì. Vedete se c'è qualcuno alla finestra. Qui fuori. Sì. Non ho scappetto trappola. Bella rap. Ok, una è qua, una è qua. Dove? Sto vedendo i piedi. E' porta. Oh. E' uno. E' uno. E' importante che non vadano alla finestra. Ce n'è uno downato su di me, double down Il problema è che ce n'è un altro ancora Dei mana fuori, sul mio corpo Ok Dark Bravo Dark Questa terra Stacere, è sempre lì No, è vivo, è vivo Piano di sopra? Sì, però aspettiamolo Aspettiamolo È in bagno, master bathroom Prova a fargli il giro da dietro Si è droppato qua Speso Bravo ragazzi Missione completata Bella Ha fatto un wall bang a culo Eravamo in due a spararli Sì, sì Quando moriva ce la voglio Ehi, sti cazzi Che cazzo sta Che cazzo sta Ormai ti prego L'affetto Ehi, defuser Dark Senza Dax non so nessuno io Eh, per forza Te sei quello passivo Perché l'11 vengo a Padova Sì, sì, dovete venire tutti a Padova Allora Sì, ma tu non sei di Padova Dax Eh, infatti Però vabbè ci metto un'ora ad arrivare Cazzo mi ne frego Io ho due ore in treno Io ho un'ora in macchina Io ho un'ora in macchina Mi porterei? Ah, sì Cucina Sempre Kitchen GG Sì Valkyria La camera La camera Dove è morto a casa Sono sempre Kitchen Comunque Sì, sì La camera La camera sta guardando con il drone Ok, bello C'è una camera In lobby Ragazzi, c'è una camera In lobby Vicino alla camera Principale Due romano Forse una Jäger Ok Raga, andiamo da Botola Cosa facciamo? Rook E vado da Dalle finestre No Di nuovo nostro Procedere di disinnescare la bomba Occhio alla Spunkil Non credo ne facciano No Sbagliate No Vabbè Ti vado con Dark Sbagliate La camera In alto Eh, report Sull'albero Sull'albero Sono pronta Andiamo sopra Dax Io sto Io sto già andando sopra Oh, vai Banna Ok Drone pronto Vado con un drone Vado con un drone E copri Vado con un drone E copri Tutti sotto Ok Eh, copro mentre rompi Ah, vai, puoi entrare Allora, ce n'è uno nel corridoio Io Sparato Toc, toc Occhio, occhio Gasp Mi ha sparato Sì, lo so Abbiamo il disinnescatore Mi hanno brecciato Due sopra Raga Tre sopra No, due Due Ma ci sta piccando Un qua Ok Uno è sceso L'altro Eh, report Spacchi sto muro Drone pronto a partire Dove troverò a vedere se c'è qualcuno In bomba B Provo a dronare Aspetta Oh no Allora, pochissima vita E a te Ho solo terrato Da bulldun, da bulldun Mi sa Lì Vai Vai Helpalo Come è sotto dark Gas Eh, ce n'è uno Ce n'è uno In B e basta Rimangono dieci secondi Vai, vai planta, 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 planta Aspetta, aspetta, ti copro, vai planta Dove? Era in cucina Come? Come? Non c'è più tempo Ma come? Come? Eh, me lo sentivo vissi Sono stato un idiota Ah, ok No, niente, niente Ah, beh, hai smesso di plantare te Eh, sì Perché mi sentivo davanti Dove volete andare? Eh, andiamo cattina, dai Sotto? Prendete bandit Prendo io? Ah, dì, dì, dì Se lo vuoi? C'è capace Ah, prendo io pulse Bravo, mute Bandit, ok Vabbè, ma c'era l'almira O lento Vabbè Eh, infatti Vabbè, è uguale Sto a fare una cosa Intanto metteci un mute Poi semmai ci metto i miei Perché se non sbaglio io Mi ho spianato Difendete le bombe Faccio botole Ok, fate le botole Sono tre le botole E io ne faccio le due più vicine Io ne faccio una Ok, ti fai calo lontano Attenzione La squadra d'attacco ha trovato una bomba Anche questo qua dietro mi dovete fare Dove ho pingato La squadra d'attacco ha trovato una bomba Proteggetela Ho rimforzato il muro Un drone è fatto Ditemi dove volete in mira Uno qua Principale Ok E poi uno Ragazzi, c'è già di qua dietro Sì, sì, è per i droni Ho fatto un drone La squadra d'attacco ha trovato una bomba Ragazzi, dietro Minimo quella Eccoli, sono già arrivati qua Ragazzi, non si fatta niente Ragazzi, via, via Solo due stanno qua Aspetta, guardo io Due Usci, no, che fai da qui Ah, mi ha fatto Ci sono Hai andato di qua? Metta vita Nessuno Aspetta, che dico io Qua No, no, vaffanculo Che cazzo hanno fatto? Non lo so Ash dietro, Ash dietro Dax, guardi te da là Sì, sì Sto guardando Ok, ho rotto lì Sì, è una recuta Sopra La scale dietro A secco La recuta scesa dietro Prova a fargli un giro Recuta sopra In bar Ok, adesso l'aspetto alle scale Ah, l'ha fatto Ash Ash sempre lì Oh, l'avevo presa Ah, la recuta col pompa Guarda se Da dietro Uno che arriva Uno da dietro Non c'è più vita Vabbè Lì, è entrato Mi sa Dov'è che sta? Mi sa che dentro E lo sente in realtà, sì Sta plantando Dove cazzo? No, dove era? Merda, scusate No, vabbè Va bene, va bene Mi sa che devono andare sotto anche loro Non stiamo andando male Più concentrati ci siamo Allora, Dax, fa una cosa Vai Appena metto la mia carica Pedal defuser Tiramele tutte e tre In una botta sola Ok Ok Stiamo sicuri che non Non è E magari io Te metti da una parte Io la metto dall'altra Allora, conto Conto Faccio conto Tiro Uno Tiro Uno Tiro Sì, ma facciamo così Te mettine una Io intanto metto quella di bana Così Se fa una Non fa l'altra Perfetto Sotto 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 Il drone è alleato Ha trovato una bomba Jäger Ah, mi ha preso Sto giocando solo di VX Non è alleato Ha trovato una bomba Ecco Lo spottate I droni Incazzo D'un dio Occhio che droppano il cipolli Non hanno ancora messo il mira fuori Ancora cinque secondi Non lo facciamo veloce Vabbè, intanto vedete il mio drone Non l'hanno messo il mira Disinnescatore Procedere a disinnescare la bomba Veloce, 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 veloce Vabbè, mi ha fatto il mira Tac, 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 tac Corri, 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 corri Corri, corri, corri Ho rotto raga Vai, 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 buono No, no Ancora, ancora C'è mira, sta mettendo il mira Andiamo dall'altra parte Ancora, ancora Metto una omogena Buono Buono raga, qui è aperto Minestre chiusa Minestre chiusa Eh, bravo, ora è portato controllo Granata fumogena Granata fumogena Vai, prova correndo però Ecco Ecco Vai, dai Vai, dai Vai, dai Vai, dai Vai, dai Ancora, vera, altra stanza Aspetta Non c'è tanto un po' di fumo Eh, nessuno ce l'ha più Non ce l'avevo io Dall'altra stanza, fate in fondo E c'è anche Jaeger dall'altra Ah, ecco perché mi vedeva Raga, c'è Jaeger corridoio Aspetta che trono Corridone di Jaeger Raga, se volete, io passo dall'altra Ancora, tu tac, tac Io raga, passare dietro Ah, niente, niente Ah, c'è quello stanzino qua a destra Gastro, ti vedo avanti Cavera, mi sa, nello occhio Oh, merda Una granata ce l'avete che distruggiamo il filo Non è un'unica Ah, un'unica Ah, un'unica Eh, questa che è cavera Raga, distruggete il filo con la granata Se ce l'avete Tanto non Non lo prendi se ci passi di fianco Oh, c***o Tanto, sparate un pochino Te la uno Sì, è qua dietro, sì Rapportare vista, riportare vista Lì, lì, lì Vabbè, ecco, ma Non coprite Non coprite Era nel corridoietto, ma non coprite Secondo me si è plantato ora è riuscita Perché c'è cazzo 20 seconde Il disinnescatore è di nuovo nostro Coprite, no, no, no Eh, mi avete detto, ho provato a plantare ora E' nell'angolino No, si è rimessa dentro la stanza Sì, mancano 15 secondi Coprite Non guardate dove dovete guardare Coprite Io coprano Io vado Vieni star Vai, 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 planta Cazzo Mamma No, peccato Eh, non potevo fare E' caduto Cazzo, ma le coperture Troia, sveglia Cazzo Non guardate per terra, figa Dove volete andare? Andiamo, torniamo a cucina, va Provo a prendergli Vieni come va Troia Ragazzi, quando mi dite Trovate a plantare Eh, io vado subito a plantare Eh, ma bisognava tenere due fumogeni Poi non capisco Sto spam di fumogeni Ne bastano due lì davanti E' un cazzo di buco A me ho cagato sul buco Dai, forse Sta giocando Sto giocando uno Due Due sta giocando Ah, se gli altri tutti Uno, uno I candidati sono senza mani Porca puttana Ok, io faccio botole Il pavimento è fortificato Bucco da qua Vediamo Ricarico Forza, riporta Rompo questa botola? No, no, no La rompi come ti serve No, no Mettete più di rompere Manca 10 secondi 5 secondi Stai avvicinando la porta Ok Due riporti sono stati Ok Ok, bravo Dark Porta sicura Oh, chi è che mi glazza? Io, io Mi dà fastidio col quadro Stanno Guardando un drone da sopra No, c'è l'ad Che sta guardando il buco Eh, merda Eh, però te l'ho appena detto Frapport c'è un drone sopra DC sta guardando il buco Lo so, lo so Eh, Dax, non piccarlo Hanno trovato una bomba Sapete cosa fare Uno, sì, due, siete Rapport a dietro Ho sentito uno col drone Che stava andando Sì, è lì uno col drone Rapport Raga, da dove sono? Entrando a B Uno sta sopra da te Eh, all'altra botola È alla botola È sopra la botola Te lo pingo? No, non pingare Ok, vai Wallbang vai vai La squadra d'attacco Ha trovato una bomba È entrato dentro al lato Silenzio Vane dentro Sto arrivando Rapport Nido in posizione Dove cazzo mi beccano? È dentro Sto frattando Sto frattando L'attacco ha attivato un disinnessiatore Va bene Ricarico, copritemi Ho piazzato un nido Eh, l'hai visto esteso Eh, l'hai visto esteso Andiamo Fuori Oh, c'è fuori È fuori Della finestra È chiudentro Cazzo, ma No Vabbè Sizione fallita Difensori neutralizzati Sì, aveva fatto in tre That's easy, man Uno doveva provare ad uscire Dai, regà Come il primo round Eh, forza Prova a prendere montagne Prova Prova a prendere glass Così plantiamo Prova, dai Diffuser, please Andiamo a cercare di non entrare Dalla strada Diffuser Dovete usare il drone Per trovare una bomba Ah Ci piangiamo Per il cuo Dove eravamo noi No, sì, sì Vabbè, sono in kitchen Ancora Chi è, carica Vai Dove hai trovato una bomba Ah, non so Un quarto è sti qua, tazzo Eh, tre Tre Siamo tutti equilibrati Siamo lì 10 secondi all'inserimento Conchilia Ancora 5 secondi Il disinnescatore è di nuovo nostro Bomba individuata L'obiettivo è rile Ha messo il campo fuori Carmi Sull'albero l'ha messa Vingo dove? Dietro di me Ne ha messa una qua Ma non Preso uno Ne ha messo un'altra Ricarica Copritemi drone in B Sono già io in B C'è solo uno in B Dov'è che? Vai Vedete mi se lo del defuso è che arrivo Arrivo su con te Dark Però non ce ne sono Oh, se io entro mi dovete coprire Eh, aspetta, aspetta Tira un pomodoro Va bene, va bene Vai, vai Mi sto avvicinando Eh, c'è la manina È qua Un bel buco gigante in arrivo È qui dove ho film gas Esattamente su È lì, è lì Dai, aspetta È lì È rotto E non si muove gas Non vuoi entrare Non vuoi entrare Aspetta Non vuoi entrare Un quarto di vita Dai, vieni qua Esattamente qui Bella, Fede Vai, vai Plantate qua Va benissimo Che tocchio Bella Quindi Proviamo a prendere anche noi Provo a prenderlo io Vai Se voi volete andare Vabbè, prendiamo se siete i loro operatori Trovate Eh, il mira bandit Se andiamo sotto Ah, andiamo in la metà Eh, allora a questo punto Prendo Sì, prendo eco Aspettate, riprendo muti Prendo eco, prendo eco Ho voluto uno jaeger È uguale, lascia stare No, prendo eco Perché plantano sempre Inby E basta che non crepo Tanto me ne sto fermo È vantaggiato Difendete le bombe Lascio qui un trauma Dai, buco nel muro Ti puoi tenere il cazzo adesso Ci si, buca La buca Ho moltificato il muro Esatto, bravo Entrambe Allora Repo Le botte le fai te Te, ho rotto tutto Beh, io ne faccio uno Io ne faccio una Te fai l'altra Mancano dieci secondi Siamo a cinque secondi Oh, chiara, eh C'è un drone ancora dentro Mi ha trovato la bomba Dai, me lo verrà il 4-4 Mi metti lo scudo qua, Arna No, scusa Occhio, occhio Vedete, occhio C'è ancora glazze dal buco in B? Sì Eh, porto, vuoi il mio drone sopra? No, lascialo in B No, no, chiedo lì Eh, attenti a sparare lì, eh Io faccio le kill solo da quel punto lì, praticamente Cazzo Occhio, la squadra d'attacco ha trovato una bomba Cosa è successo? Troppo bella l'ho messa Hanno provato una con 30 Quando devi usare No, guarda, sì, hanno Che uno sta sopra Guarda, uno sopra Raga, hanno aperto qua Guardate la seconda Dark, mi avverti te quando... Sì, sì, no, sì, è per caroli C'è la camera Che fete, occhio Avvertisci quando entri in B Coprimi tu Avvertisci Avvertimi dai Ok, si sta rompendo botola Ok, bana su, occhio Glass sta pensando di entrare Rai, porta, mi guardi la cam dietro Fissa Raga, cosa faccio? Oh mio Dio C'è IQ scale IQ scale sta salendo Sta guardando su Sta guardando corridoio Ok, rompono questa botola IQ botola È qui, è qui, è qui, è qui È qui fuori Ti ho spenato, Dax Dai, chi faccio il giro Esatto No, Dax, no, Dax Bravo, bravo Oggi sotto, Dax Lo so, l'ho vista, infatti Eh, si è droppato, che cos'è? Non ci abbiamo, Doc Dark, riesco a venire qua dietro C'è la fai Mi fa una scale droppata È stesa su scale Vai, Dark, help Ci penserai a youkai Sono qui con il drone, aspetta Ti faccio il giro Sta guardando, sta guardando dining È morto, fantastico Dark, dark, dark È in dining Vabbè, mi sono perfetto Però è la bifesa Nemici, ti ho arrivato È lo stesso, va benissimo Che cose da maestro che ti ho fatto Ah, le stavo facendo il giro da dietro L'ho, Dax Ho premuto il contro E' subito C per rialzarmi Così almeno Spira Devo uscire a quella per la montagna Sto porco Dio Quanto andranno sotto Ci l'hanno perso, sì Quindi gas con smoke Io con smoke Dax prendi clamor Ok Ok Bravi, bravi 3 con smoke, dai va bene Abbiamo tante di quelle smoke Che bastano quanto Facciamone due alla volta Proviamo Massima, basta Allora fai una Lo abbiamo per quattro volte Un secondo Un'altra Inizia a plantare Appena senti che Sto smoccando Yep Ok Fatemi stare sotto Ok Allora Le smoke servono per plantare Lo servono per altri È vero Ha ragione Dani Sì Mettere È tipo Uno scudo davanti al buco per i droni Da dove mi hanno preso prima Ah beh Montagnola Quindi meglio Hanno un minuto Ecco Solica Quindi se hai il toucher Me lo ho in canso Cambiate spawn Attenzione Il drone è alleato Ha trovato una volta Dovano plantarli bene Perché Cioè Non ci sono io Che sono in montagna Noll Cambiate spawn Spawnate in Rupe Ma mi ha distrutto Ma Vada Sei fuori mappa Ancora 5 secondi In Rupe 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 Sempre veloci Così di arrivare Abbiamo il disinnescato Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla Non rinforcarla Io sopra le finestre Sono chiusa Aspetta Aspetta Scopri io con il visore Chiusa Ok Ma no Hanno il mira Eh Dax Devi farmi tu Aspetta che ho Vuole essere la clema Ancora Vai ancora 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 Buona Oh prendi il Vabbè Alla stessa Adesso sta lì Il disinnescatore è stato recuperato Vendite dietro qua Perché ve lo fate? Lì una granatina dentro là Non ce l'ho la granata Guardatevi E subito sotto E lì E lì Bravo Ok Spoccate che blanchiamo Mannaggia la morte Eh Due E ma vai distruggi qua Eh Montagnolo Mi sa che non puoi entrare Eh no Devo passare Vai Entra 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 Vai Ecco Lancia Tatcher Dietro di me Non ce l'ho Non ce l'ho più Un tazzo Rimetti Rimetti Morto dietro Morto dietro Il flanker Easy Ora ancora Non ne ho più Non ne ho più Rimetti 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 Moccate Vai 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 Ancora L'ultima Non ne ho più Non ne ho più Ricarico Sono mortato Ok Ho atterrato Uno Anzi no Bella 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 Si sono uccisi E' lì E' lì Preso Non guardo più Do fuori mira No 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 aspetta aspetta Non fare Non ti muovi Buono Si raga Bravo Bravo Quello lì Quello lì E' ottimo Bella Dai che la viene recuperata Dai cazzo Dai cazzo Dai cazzo Dai cazzo 12 killer Attenzione Io sono di supporto Quattro assist Io due assist Da carry Dai Su Dai ancora concentrato Vediamo come prima E siamo a posto Difendete l'area E proteggete le bombe Qua rompo Aspetta Aspetta a non rompere Vai rompi Adesso rompo Vai 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 rompiti sto muro Veloce Vai veloce Dax Ok perfetto Vai Fede Vai 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 E le botte le le hai fatte Repo C'è un drone di Siamo a 10 secondi Ancora 5 secondi La squadra di attacco Ha trovato una botta Andiamo un drone dietro Hai ricordato Io non lo prego Ma perché chiudi sempre quella parte lì Se lo lascia aperto è meglio no? Ah vabbè Non lo sto Cam di merda Eh vabbè Mi sa che te la becca Glotz da lì Stanno entrando Dall'ingresso principale Raga sono sopra alle botole Anche montagne Sì esatto E da te Sono in due Sono in due Sono in due Mi indormi Tre sono tre Sono tre sopra Sì Ok ha preso la telecamera Ma non quella di Valk Ok sta andando dall'altra botola Montagna dentro Asche toucher C'è anche toucher Va bene Madonna come l'ho ucciso Dentro gas Eh lo so Occhio fede sia fuori che sopra Oh raga non è così I might Ponti sopra Sto scendendo Sto scendendo Ho piazzato un nido Ti bannano Sto in posizione C'è anche la Claymore C'è la Claymore Occhio Ok sopra di te ce l'hai Provo a pusharlo Oh Eh sono tutti dentro Ok Ok La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Piano Guarda che piano Va na bar La squadra d'attacco Ha piazzato un disinnescatore Vicino a una bomba Distruggetelo Hanno trovato una bomba È di sotto bar No 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 Fai giudere lì bro Sì sì Onda lì Eh minchia Vai adesso qua Vabbè devo A rischio Bravo No no time Vai 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 Tanto Questo è perso Destra Kitchen Ah dai Vabbè dai Vabbè Eh Non chiuderla Vabbè Non chiuderla Stiamo più attenti Perché qua hanno avuto Bastanza Culo Perché l'abbiamo sempre Protetta bene Quindi possono andare Ancora sotto loro Vabbè Sì per me vanno ancora sotto Questa sensazione No no Fetti fetti Ma che monti Monti è up Raga allora Dove prendere montagne Sì Vanno sotto sì Ma anche sopra Vabbè dai la prendo di Bane Per me vanno sotto È una mia sensazione No secondo me vanno in cucina Ma copiamogli le tattiche Se brecce lo facciamo a casa Lì Prenderanno smoke Ah Deve essere Sanno che prendiamo montagne Dobbiamo individuare una bomba Oh io controllo sotto Sono già qua Sotto 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 No Ok cucina Sì Il drone alleato ha trovato Hanno Valkyrie Caveira Mira Bandit Mira 10 secondi Ah l'ha visto Cazzo Dax 5 secondi Dax 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 Guardami Allora Mi ha messo fuori Individuata L'obiettivo è raggiungerla E' disinnescare Dimmi Metti il drone di fianco Fanno fuori il turno Nel mio Lì Occhio che fa Sponky Il Valkyrie Ma dove? L'ho pingata Sotto Trovata la camera Temere di averla presa No Fede Madonna In cura Ok No Ok C4 Ok C4 Questa Tira Qua Vado io Dax Devo entrare qua Lì non c'è nessuno Ah non c'è mira C'è uno Morto 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 Ok Entro Aspetta Allora vengo anche io in B Sono dentro in B Lì c'è mira Dove? Eh dove? Lì Lì Dove ho pingato Eh raga vi dobbiamo io Dai la vedo che c'è la canna Attivo il drone Prova entrando E non si muove Mi sa che ci sei Prova entrare Prova portare il drone Mi stavo aspettando No come fa? Eh la sopra di te Merda raga Diciti mi c'è questo No nel culo Me la lasca Prova dai Dai breccia No no Innescatore In fondo Bravo report Brutto cazzo Shut up Mi rendi Sta venendo da dietro mi sa Il disinnescatore è di nuovo nostro In 40 secondi Allora Bandit è ancora giù Cioè quello lì Quello giallo è ancora giù E guarda E guarda La dopo Mira non so dove sia 30 secondi Ok allora Report Report Stai avviso dalla camera E bandit è nei cespugli qua E nei cespugliotti E nei cespugli eh Ok è vero No Raid Ho eliminato Ah Hai preso Ma gli ho sparato in testa Abbiamo la seconda mappa Da fare Sì Orgon Preso Pergo set Perfetto Mi sembra più che onesto Mi sa che ti sceguo Dani cosa ne dici? E adesso sto guardando la tua live Hai visto? Quanti spettatori c'ho? Ehm Cinque Report No aspetta Dalida Pentax Dax Io? E One E One Che altro? Mi aggiungo anch'io Ragazzi Devo avvicinare Comunque Abbiamo recuperato Mappe Magari Eh già Oh anch'io Vado all'estate Visto Tola tieni Eh magari ho pure Incasinata la webcam Sto figo perché c'ho la webcam Hai capito? Schwabba Schwabba Che ti crescono i capelli Sì Come vado a prenderlo a bere No No Eh raga io non posso fare la seconda Vuoi? Eh devo andare Sì facciamo entrare Zodio Esatto Ok